I wanna wake up in 1985 And kiss your girl in the backseat of my dad's car Never nobody's gone again And nobody calls me a chicken Nobody calls me a chicken Buongiorno a tutti, sono NewTabris96 ed eccoci qui con il primo video del 2020 Buon anno! Buon anno! Ci becchiamo subito la collezione speciale Miao, Omeo, Vimax Prima collezione del 2020 Prime due carte V La roba di Galar Ottava Gens Esatto, la prima Gigamax Ovviamente la prima carta di ottava generazione è un Pokémon di prima Onestissimo, mi sembra giusto Questa è appunto la prima carta V Vimax, Gigamax Perché poi l'espansione vera e propria di Spade Scud arriva il 7 febbraio Vedremo poi tutti i prodottini Esatto, questa è la prima carta V in italiano Perché poi l'espansione in giapponese Già sono uscita alcune Direi di non perdere tempo È una confezione comunque piccolina Non c'è Sono quattro bustine delle espansioni di sole e luna E le promo 4 e 5 di spade e scudo Sword e shield Esatto Perché le prime tre erano nei box Quelli di Galar Che sono usciti qualche tempo fa Che ovviamente abbiamo già aperto sul canale Sì, che erano appunto Glutti, Scorbani e Sabol Esatto, con Zassia e Zamazenta Sì, quelle confezioni Poi sono già confermati Le promo della pre-release Le promo dei blister Della prima di Spade Scud Poi uscirono delle team di Galar Con Rillaboom, Cinderace e Inteleon V Ok E anche un box di Toxtricity V Perfetto Troverete tutto quanto questo canale Una promo che arriverà Sfoderà gli artigli con Miao V Max Vediamo se mette a fuoco Miao è un piccolo Pokémon piuttosto famoso per la sua tenacia Il carattere è un po' scontroso e la passione per le trame Tanto subdole quanto sottili Ora immagina un'inversione extra large e ricormo di potere dei Pokémon V Max Ecco che i sogni di grandezza di Miao diventeranno realtà In questa collezione troverai sia Miao normale che il V Max Perfetti per mettere in atto i piani degni del Pokémon Graffi Miao Vabbè c'è la carta olografica C'è la carta V Max C'è la carta gigante V Max Quattro bustini e la carta codice Perfetto Per prima cosa direi Che ruvida Nelle espansioni di Sole e Lune Sì, di Sole e Lune Spade, Scudo Le Gigamax Sanno anche se sono carte non alla fine dell'espansione Ma in mezzo così Sono abbastanza ruvida E il long cut Molto long e molto cut Hanno imparato Sì, adesso sono chiuse come si deve Perfetto Questa Eh, sono belle direi Questa qui, Miao V Ok, eccolo qua La Sony Max 004 Perfetto Guarda che figo Infatti adesso c'è scritto 2020 Pokémon Nintendo Siamo nel 2020 E questa qui è la V5 La versione normale La Gigamax Evolve la Miao proprio È proprio un'evoluzione Eh sì Alla fine è lui che si trasforma Perfetto Diventa giga Diventa giga Sembra troppo una cosa stupidissima Ok Qua il codice Qualezione speciale Miao V Max Perfetto E andiamo di bustinelle Quattro bustine di L'Espansione Solo abbiamo due Eclissi Cosmi Come un gioco di squadra Un Guardia in Ascena Facciamo fuori queste quattro bustine Velocemente Tempo zero Perfetto Ok E tra l'altro Deve ancora uscire L'ultimo box Di Pokémon GX Infatti Il 24 gennaio Esce l'ultima promo Di Sole e Luna Che è il Sand Slash Di Alola GX Che vedrete qui Sì L'energia Mi ricordo ancora Che appunto Sarà la promo L'ultima promo Di Sole e Luna A 236 Se non sbaglio Allora Beware Collina Scrosciante Sviggo Glygard Geod di Alola Atrat Litpick Pancha Vulpix di Alola E Talonflame Perfetto Le altre tre Ecco il codicione Perfetto Vediamo cosa contiene Questa bustina Un'altra Deve già a fuoco Diamo a fuoco Diamo a fuoco A tutto Vespera Augusto Farfetch Ferrosi Charmander Elioptic Gulpix Spancham Occhialini metallici E Nintols Tutto quel Gulpix Charmander Molto molto fuocoso Molto in fuoco Le ultime due gustine Che stavolta Gli Eclissi Cosmica Ok Perfetto Energia buio Allora Qui abbiamo Ambipom Golduck Pino Coffee Snowbox Snorant Roca Dirling Gremmer di Alola E Palosand Perfetto Ecco c'è l'ultima La bustina di oggi Ecco quel codice Perfetto Energia buio Due fuoco E due buio Va bene Goodman e Alba Vi Charm Perfetto Ok Charm Torcol Ipom Onyx Tepid Sandschulia Lola Snorant DuPyder E Raichu Perfetto E questo è tutto Allora questo è il contenuto del box Di due Miao Uno V Uno V Max Versone normale E il V Max Versone Max Esatto Versone Giga Perfetto Allora con questo è tutto Noi ci vediamo al prossimo video Ciao